... Amici di ROTV, buonasera, un altro appuntamento con Libera la Mente. Ci troviamo in una casa qui a Randazzo e con noi abbiamo il professore Ugo Giovanni Castorina. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Sono occasionalmente qui per la Santa Pasqua, meglio per qualche giorno prima di Pasqua, per venire a vedere mamma, i miei cari e poi rientro a Bari dove il resto della famiglia mi attende. Io le voglio fare una domanda per iniziare. Lei è randazzese, è stato per tanto tempo a Randazzo, è andato via a circa l'età di 35 anni. Sì, sì. Ma Randazzo sta nel cuore, lo si porta nel cuore. Le radici affondano, appunto, sono profonde e quindi c'è sempre questo desiderio nostalgico un po' del luogo natale, degli amici, di un tempo, delle persone con le quali ci sono dei legami affettivi. Quindi ogni volta che è possibile si viene volentieri. Sono passati circa vent'anni da quando lei ha lasciato Randazzo? Io sono 35 anni che sto in Puglia, quindi 35 anni che vivo in Puglia. La differenza del Randazzo che ha lasciato lei è quello che trovo ogni volta che torna? Direi, ci sono delle cose che continuano ad essere quelle che erano e che danno quel senso anche di continuità molto bello per chi vive lontano, perché i ricordi sono legati a questi ambienti, a questi luoghi. Il collegio che è stato per noi tutti da ragazzi il centro, diciamo, culturale, educativo dove ci formavano. E poi, diciamo, gli ambienti, i vari ambienti che sono sempre quelli. Ci sono anche tante cose nuove, belle, diverse. Insomma, conserva Randazzo quella caratteristica tradizionale che la rende cara, perché ci ricorda i tempi che furono. E c'è anche il nuovo, gli aspetti nuovi di evoluzione che, insomma, portano un po' alla contemporaneità e ad adeguarsi ai tempi presenti. Il professore Ugo Giovanni Gastorina è laureato in filosofia, si è trasferito, come avete sentito, in Puglia a Bari. Di recente è stato, tra virgolette, io aggiungo, protagonista dell'episodio che è andato su tutti i mass media nazionali quotidiani, naturalmente televisione, in merito a quello che è accaduto nella scuola alla quale lei fa il preside, la Luigi Lombardi di Bari, una delle scuole più grandi. Sì, è una scuola abbastanza grande perché conta 750 bambini di età tra gli 11 e i 13 anni. Oltre poi, essendo un centro territoriale permanente, quindi c'è anche i corsi serali per gli adulti, all'interno della stessa scuola abbiamo, come dire, anche messo dei corsi per adulti sempre, di scuola superiore, di altre scuole per dare al territorio un servizio perché chi vuole, anche se è in età adulta, possa riprendere nuovamente e rinserirsi negli studi e quindi conseguire anche dei diplomi di scuola superiore. Quindi tanti ragazzi, ma altrettanti docenti? E tanti docenti, sì, circa un centinaio di docenti. Poi la segreteria, il personale e quindi un bel numero di persone, però ecco quello che è molto bello è che si è riuscita a instaurare anche uno stile, è qualcosa che coinvolge, coinvolge molto anche gli adulti, i genitori che non sono estranei alla scuola. Quindi c'è uno stile di comunità, ci sono dei percorsi che ormai sono tradizionali, che segnano, ne ho segnato la vita di questa scuola, di cui potremmo anche parlarne poi. Di solito si viene alla ribalta, si accendono le luci del palcoscenico quando accadono dei fatti eclatanti, però nella quotidianità ognuno di noi svolge una propria attività. E quella scuola lì a Bari, la sua scuola dove lei è il preside, vive costantemente quelle che sono le quotidianità di tutti gli allunni, di tutti i genitori, in un territorio, in un ambiente sicuramente, tra virgolette, a rischio. Sì, l'ambiente del San Paolo, il CEP di Bari, centro edilizia popolare, che dagli stessi ragazzi poi veniva invece a Grammato come centro elementi pericolosi, perché loro si sentivano guardati un po' estrani, forse alla stessa città di Bari, di fatti quando dicono per andare in città, spostarsi, bisogna tenere conto di questa realtà, dicono andiamo a Bari, cioè come se provenissero da un'altra zona, da un'altra realtà. In effetti il quartiere, che conta circa 60.000 abitanti, quindi è una città, nella città, è una periferia distante circa 12 km dal centro cittadino, costruita intorno agli anni 60, con dei criteri semplicemente di esclusione di elementi che risiedevano nella città vecchia di Bari, in modo particolare con drabandieri, perché si viveva di questi espedienti anche, e quindi portati con le camionette della polizia, proprio caricate sulle camionette della polizia, e trasferiti a forza in questa nuova realtà che era stata costruita, dove però non erano presenti nelle forze dell'ordine, nella legge, niente, e quindi sono rimasti per un certo tempo, per un lasso di tempo abbastanza lungo, completamente abbandonati, e il degrado è stato notevole, e il territorio è diventato territorio di nessuno, e quindi l'emergere di alcune famiglie che avevano interessi particolari. Quindi una vita molto lontana da quella che, direi, la vita civile, e la vita legale, ecco, la legalità. Ognuno si faceva giustizia da sé in quell'ambiente, e la cosa era molto... ricordo che ancora negli anni 90 si scaterò una guerra tra bande rivali, e la scuola si trovò nel tiro incrociato di queste due bande, per due volte, tre volte arrivarono anche proiettili in classe. Sì, fortunatamente, il signore ci ha protetti, non è successo niente, però... Ecco, era un periodo molto difficile, molta violenza, si sparava per le strade, il tutto cominciò con l'uccisione del papà di una bambina che frequentava la prima media, che era venuta a prendere, cioè questa bambina, alla fine della scuola, un vespino con due ragazzi si avvicinò e lo freddarono lì, proprio sul bracciapiede di fronte alla scuola, e stavano per uscire i ragazzi. Abbiamo capito dalle sue parole quello che è il contesto in cui lei opera, soprattutto opera la sua scuola, però non è solamente questo, naturalmente c'è anche il lato positivo. C'è molta brava gente, tantissima brava gente, quello che appunto è un indice certamente molto significativo del progresso e della crescita del territorio è questo, che mentre prima, quando avvenivano dei fatti molto specievoli, come l'uccisione di qualche persona, la gente si chiudeva, non vedeva niente, non sentiva niente, perché aveva paura, non voleva esporsi assolutamente, adesso gli ultimi episodi tristi, l'uccisione di quel ragazzo che era calciatore del bar in Montani e del cugino, la gente ha protestato, cioè è uscita fuori, ci sono state delle fiaccolate, ci sono state delle dimostrazioni, ecco questo per indicare che adesso c'è una coscienza civile, c'è un desiderio di legalità, c'è un desiderio, e quindi anche l'amministrazione adesso ha fatto molto per rissanare quel quartiere, per dare a quella popolazione anche un riconoscimento dei diritti civili, e quindi la situazione sta evolvendo molto in positivo, e io credo che in questo abbia molto avuto a che fare la scuola, perché senza cultura non c'è civiltà, non c'è possibilità di migliorare, di cambiare, e la scuola ha contribuito in modo particolare a dare ai ragazzi questa coscienza del civile, della legalità, della responsabilità dei cittadini, dei diritti, dei doveri dei cittadini, e quindi ha contribuito senz'altro questa crescita. Poi molti ragazzi, ho visto che in questi anni, mentre prima arrivavano alla terza media, e quello era il limite massimo, e dopo andavano a lavorare, le ragazze già a 14 anni diventavano madri, quello era il loro... Adesso parecchi ragazzi, parecchie ragazze hanno conseguito il titolo di scuola superiore,